Ci occupiamo anche oggi di quello che è accaduto il 25 novembre del 2016, soprattutto per evidenziare che ci sono ancora attività di sciacca che hanno subito particolari danni in quell'occasione a causa dell'esondazione del Can Salamone e che non hanno ancora ricevuto nulla. Siamo con Maria Cristina Salvato del negozio di ferramenta Ames, il cui danno è stato quantificato in circa 800 mila euro e con Ezia Certa i danni alla sua pescheria quantificati in circa 200 mila euro, ma da allora non hanno ancora ricevuto nulla, eppure hanno ripreso la loro attività. Il loro è un messaggio di speranza, però chiaramente c'è anche molta tristezza per quello che è accaduto. Principalmente c'è tristezza e anche delusione da parte di questo governo, da parte dell'amministrazione, da parte della regione, un po' da parte di tutti gli enti che sono coinvolti in questa situazione. In televisione non si sente dire altro che siamo il governo del fare, siamo il governo del fare, ma fare che cosa? Qui non stiamo facendo nulla, siamo soltanto noi che facciamo, quello di sbracciarci, alzarci le maniche ogni mattina, alzarci per andarcene a lavorare e aspettare loro che stanno seduti nelle loro sedie. Ora basta. Qual è il punto della situazione? Voi siete in attesa di ricevere un risarcimento, è chiaro? Noi siamo in attesa di ricevere il risarcimento che c'è stato quantizzato da parte della protezione civile. Abbiamo anche ricevuto da parte della protezione civile una nota ufficiale del 31 di ottobre del 2018, dove ci dice che i soldi da parte di Roma sono partiti e che tutto è fermo in uno stato di stallo alla regione Sicilia. Quindi dobbiamo capire un po' come è la situazione. Fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta né positiva né negativa. Un silenzio che fa paura ma che produce anche tanta tristezza e tanta delusione. E sia certa, tu non hai avuto neanche difficoltà a dire dei problemi che ci sono stati in seguito a riaprire l'attività, a fare in modo di convincere anche i tuoi fornitori ad attendere questi soldi. Però adesso sei arrivato in un momento di particolare difficoltà. Molta difficoltà. Molta difficoltà. Ma sai, quello che mi dà più fastidio è il silenzio. Questo silenzio rappresenta per me innanzitutto una mancanza di rispetto per le persone, per i cittadini e per le persone che hanno veramente voglia di lavorare e di crescere in questa città, non solo di Sciacca ma anche del territorio siciliano. Io faccio oggi un appello. Un appello a tutte le persone che hanno in mano un potere di farsi un bel bagno di umiltà, di immedesimarsi nei panni del morto di fame. Come la parabola di Gesù Cristo. Il sazio non capisce il morto di fame. Io non auguro a nessuno quello che io e quest'altra mamma stiamo vivendo. Non ve lo auguro. Però vi ripeto, fatevi un bel esame di coscienza. Possiamo, chiaramente non entrando sulle questioni tue personali e per quello che ti senti di dire, ma al momento come fai ad andare avanti con la tua attività? Faccio che ho circa 16 ore di lavoro sulle spalle, ogni giorno. Non ti dico quante telefonate ricevo. Non ti dico, sinceramente, devo dire grazie ai miei figli. Perché sono stati... Scusate. Quando fai riferimento alle telefonate, chiaramente parli dei creditori che ti chiedono di avere quanto hanno dato in termini di lavoro, anche in termini di forniture. Certo, perché tutto il rinnovamento che tu vedi dentro la mia attività non l'ho fatto perché avevo dei soldi messi da parte. Chiaramente tre anni quasi di chiusura, anche se tu hai qualcosa messo da parte, se ne va dopo 20 mesi di chiusura. Ma l'ho fatto grazie alle persone di fiducia, di sciacca e non solo, che mi hanno dato la possibilità di riattivarla, questa benedetta attività. E i fornitori, che nonostante che abbiano delle fatture in sospeso del 2016, mi hanno ridato fiducia ritornando a dare merce a Italfood. Però adesso siamo a un punto dove hai bisogno di questi soldi perché è un nostro diritto. Non l'ho causato io l'alluvione. E attendi circa 200 mila euro? Quasi 200 mila euro, quasi.